Vediamo i brazzi che si alzano, vediamo una crisi in cui il governo non ha fatto niente, è una crisi che ha fatto sempre sulle stesse persone. Non state in finestra, scendete! Ok, fermi qua! Ecco, fermi, bravi! Non ce l'ho con voi, però avrebbe levato i caschi e cominciare a scadare la partita del popolo! Perché oggi tocca a noi, domani tocca a voi! Ma voi, loro, i caschi e le scuole, ma ce l'avete una casa? Alla vai! Se c'è il suo governo non è mai! Il governo non è mai! Non è più la casa, non è reato!